benvenuti a questo momento di incontro di opera duemilatrenta eh vogliamo proseguire con l'azione avviata alla fondazione della piattaforma opera duemilatrenta quella di promuovere l'attivismo civico e le best practice far vedere le cose positive che ci sono nel nostro paese e eh avviamo questo momento d'incontro dando la parola subito a Jacopo Mele che è stato uno dei fondatori di opera duemilatrenta ed uno dei coordinatori che ci può raccontare questa best practice di oggi. Grazie mille presidente, buongiorno a tutti. Oggi si parla di connettività, di elettrosmog e di tutta quella che è la tecnologia che ci proietta al futuro, ci proietta alle auto che guidano da sole, al trasporto internazionale che guidano da solo ma certamente ad una vita più sana e con meno elettrosmog. Come si fa? Sembra uno simolo, sembra impossibile eppure in Italia nasce una delle tecnologie più avanzate al mondo che ci consente di innovare e dare vita a questo simolo. Quindi più tecnologia, più connettività, meno elettrosmog. Con noi Francesco Paolo Russo, fondatore di UBSRL, società innovativa, portatore del Wi-Fi in Italia e nel mondo. Francesco oggi ci racconterà dei loro esperimenti, della loro sperimentazione in Italia e internazionale e di come l'Italia su un tema così delicato ha una leadership internazionale insieme a pochi altri attori lungo tutto il Mediterraneo e lungo tutto il mondo. A te Francesco. Grazie Jacopo e buongiorno al presidente della Fondazione Univerde. Per me insomma è un piacere oltre che un onore essere qui. Ecco, ho fondato qualche anno fa UBSRL come startup innovativa proprio inseguendo questo sogno, ossia un po' quella che è la nostra vision, provare a fare in modo che ogni punto luce possa diventare un trasmettitore o ricevitore di informazioni. E questa è un po' la tecnologia Wi-Fi, ossia una tecnologia che consente appunto di trasmettere dati e informazioni attraverso la luce. Funziona grazie al fatto che la luce è un'onda di trasmissione, tanto quanto lo sono le altre onde appunto che consentono poi di avere una connettività alla rete, quindi radiofrequenze o altre tecnologie. Allo stesso modo può essere modulata e grazie a questa modulazione si generano dei codici binari che sono alla base della comunicazione. Noi non lo vediamo ma di base anche i led normali, i corpi illuminanti led non Wi-Fi hanno una loro pulsazione. Ce ne rendiamo conto anche quando facciamo magari una foto con lo smartphone e vediamo che c'è quel flicheraggio, si dice, quello sfarfallio che intravediamo appunto nella fotocamera attraverso lo smartphone. Ecco, noi andiamo ad agire su questo sfarfallio, per dirlo in parole molto semplici, lo standardizziamo e generiamo questi codici binari che sono alla base della comunicazione. Ovviamente la luce ha una serie di vantaggi dal punto di vista fisico che sono legati al fatto che lo spettro che noi utilizziamo, appunto quello della luce, uno spettro molto più ampio rispetto a quello delle radiofrequenze. È uno spettro circa 10.000 volte più ampio dal punto di vista proprio della, ecco, di quello che appunto viene chiamato spettro di trasmissione. E questo consente di avere una serie di performance molto importanti che appunto siamo riusciti a mettere in campo, a sviluppare e a creare fondamentalmente delle soluzioni ai prodotti live-fi funzionanti ed aprire di fatto quello che è un po' un mercato che era un po' addormiente proprio perché in realtà la tecnologia live-fi dal punto di vista accademico nasce più di qualche anno fa all'interno dell'Università di Edimburgo. Chi è considerato un po' il padrino del protocollo di comunicazione dal punto di vista embrionale è il professor Araldas dell'Università di Edimburgo. Noi abbiamo sviluppato ulteriormente questo protocollo e creato delle soluzioni che poi insomma potevano essere implementate sul mercato. E l'abbiamo fatto con la nostra startup in Italia che oggi appunto sta esprimendo una certa leadership non solo in Italia ma nel mondo in quanto abbiamo realizzato sicuramente alcuni dei progetti più importanti e significativi con questa tecnologia. Grazie Francesco e chiedo al presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pegoraro Scania, se nella sua immaginazione lui ha sempre visto tante cose in anticipo, ha mai immaginato una tecnologia del genere. In senso gli egizi ci raccontano che la luce ci connette con l'universo e oggi la luce, quella della nostra casa, quella dei nostri led, delle industrie, delle auto, dei telefonini, ci riesce a connettere con il mondo e con l'universo. L'avevi mai immaginato una cosa del genere prima d'ora, Alfonso? Io sono molto contento, infatti noi abbiamo attribuito il Green Pride, che è uno dei riconoscimenti che dà la Fondazione Univerde, penso più di un anno fa, a Francesco e alla sua organizzazione proprio perché è andato, come dire, ha risposto oltre quello che sono le nostre aspettative, ovvero io la campagna sull'elettrosmog l'ho fatta da sempre. Nel 2003, la prima volta che Beppe Grillo ha messo piede per una conferenza stampa alla Camera, l'ha fatto per venire a presentare il referendum contro l'elettrosmog che noi abbiamo fatto in Italia. proprio perché il tema dell'elettrosmog è un tema che viene troppo sottovalutato, però è stato molto studiato e quindi il problema c'è. E così come quando uno degli ex Presidenti del Parlamento Europeo disse l'energia che viene dal Sole è l'energia di Dio, è God Energy, è l'energia dei fossili, è l'energia che viene dalla Terra, è l'energia del diavolo, potremmo dire, senza esagerare e scomodare per forza sempre il diavolo e l'onnipotente, che i fotoni potrebbero essere l'aspetto positivo rispetto agli elettroni. Quindi se sui fotoni riusciamo, perché penso la luce si muove sui fotoni, riusciamo a trasferire dati e conoscenza, sicuramente questo impatta molto di meno sulla nostra salute che non inondare sempre più di elettrosmog le nostre città, le nostre case e le nostre vite. Quindi bravo Francesco e l'obiettivo di Opera 2030 resta proprio quello di diffondere le best practices e di creare un futuro più sostenibile. Alfonso, hai iniziato la battaglia, la consapevolezza, portato consapevolezza sul tema di elettrosmog già tanti anni fa. È uno dei temi più discussi a livello internazionale, dove si trovano ricerche contrastanti, ognuna finanziata da interessi diversi. Certamente quello che possiamo dire, al di là delle voci contrastanti, c'è e non c'è, quali sono i limiti, ogni stato ha dei limiti diversi, ogni contente ha dei limiti diversi sull'elettrosmog. Certamente quello che possiamo affermare è che la tecnologia dell'iFi rispetto alle altre tecnologie in commercio, a parità di connettività, ha un impatto inferiore in termini di elettrosmog. Quindi anche laddove i limiti sono ancora più rigidi rispetto all'Italia, la tecnologia l'iFi riesce a garantire un elettrosmog minore. Quindi a prescindere è interessante da apprezzare, dico al di là delle voci contrastanti, c'è non c'è, esiste, i complotti, non i complotti, i limiti, no? È sotto il limite, ma fa male lo stesso anche se è sotto il limite. Insomma, meglio una cosa che ha un impatto inferiore che una cosa che ha un impatto maggiore. Francesco, ci racconti come funziona questa tecnologia? È un caso d'uso. Con una lampadina mi connetto a internet, passo sotto una lampadina e mi connetto. Come funziona? Lasciaci con l'immagine che domani entro a scuola, vado in ufficio, e mi connetto con il mio device alle lampadine. Come funziona? Esatto, Jacopo. Gli esempi che hai fatto sono proprio quello su cui stiamo lavorando maggiormente in questi mesi, quindi stiamo implementando in vari settori, in vari contesti, uffici, scuole, un'infrastruttura fatta di corpi illuminanti che oltre a illuminare, grazie alla luce, trasmettono anche dati e informazioni fino ad arrivare a dare una vera e propria connettività la rete ai PC, ai PC tablet che sono all'interno di questo ambiente. Quindi lo stiamo facendo in uffici, lo stiamo facendo in scuole, proprio sfruttando i vantaggi che menzionavamo poco fa, sia l'abbattimento indoor dell'inquinamento elettromagnetico, perché di fatto utilizziamo la luce e la luce è già presente nella maggior parte degli ambienti, ovviamente indoor sono ambienti che hanno comunque un'infrastruttura luminosa. Sfruttiamo poi anche delle sorgenti ad infrarosso, quindi anche di giorno, magari quando la luce può essere spenta, in realtà ci sono dei moduli ad infrarosso che comunque trasmettono dati. In altre circostanze stiamo implementando la soluzione, ad esempio in ambito beni culturali, quindi la stessa luce che illumina un'opera d'arte o un ambiente all'interno di un museo, di un sito archeologico, come ad esempio abbiamo fatto a Pompei Parchi archeologici, come abbiamo fatto al Museo archeologico di Tarant e come stiamo facendo su molti altri musei, ecco quella stessa luce mi dà delle informazioni a me visitatore direttamente sul mio smartphone attraverso un'applicazione che ho scaricato e quindi semplicemente camminando io mi trovo davanti a quell'opera d'arte e la stessa luce che la sta illuminando mi dà appunto un contenuto informativo rispetto a quello che sto guardando. Questi sono alcuni esempi, poi sicuramente sul medio termine ci sarà anche la possibilità per un ambiente domestico di essere connesso in Wi-Fi, questa è una cosa che ci chiedono spesso, riceviamo mail settimanalmente con utenti che insomma ci chiedono ma è possibile abilitare la connessione Wi-Fi a casa mia? Non ancora ma ci stiamo lavorando. Bene. Grazie mille. Grazie a tutti e due e proseguiamo con Opera 2003. Ciao. Grazie a tutti.